Ingegnere Tirri, l'ITS è una grande opportunità per i giovani del territorio irpino, un'opportunità che sta per scadere. Il 6 ottobre termina il bando. Che cosa vuole dire ai ragazzi che ancora sono indecisi? L'ITS è un'opportunità, un'opportunità molto ambita per quanto riguarda la formazione professionale specializzante. E' molto connesso l'ITS con l'apparato produttivo e industriale dell'Irpinia, del territorio. Per cui le persone, i ragazzi che sono motivati a entrare a far parte di questo apparato, secondo me debbono essere stimolati ad intraprendere questa avventura. Che non è avventura a scatola chiusa, ma una cosa concreta per realizzare i loro sogni. Ecco, ci sono delle novità per quanto riguarda le iscrizioni, ingegnere. A che punto siamo? Dunque, abbiamo inteso prorogare i due bandi per fare in modo di avere un maggior numero di domande e quindi poter così allineare meglio le esigenze dell'ITS con le esigenze dell'industria. C'è richiesta da parte delle aziende di ragazzi diplomati all'ITS? Veramente siamo rimasti molto sorpresi. Tante aziende che non sono partners hanno chiesto di diventarlo con l'ITS per fare in modo da poter avere dei ragazzi stage oppure di avere delle relazioni più intense con l'ITS. Delle aziende che stanno partecipando, che hanno offerto la possibilità degli stage, parecchie ci hanno già fatto richiesta di assumere questi ragazzi. Sì, e quindi noi dobbiamo essere un po' attenti perché bisogna fare i passi un po' graduali. Quindi hanno visto delle potenzità in questi ragazzi e quindi hanno fatto già delle proposte per integrarli direttamente nel loro organigramma. Ma noi andiamo con i piedi di piombo perché vogliamo che si completi il percorso formativo fino alla fine. Grazie a tutti.